Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A12, resta chiuso il tratto compreso tra Versile e Massa e in direzione nord interessato da un incidente. Ci spostiamo in A1 per lavori di ispezione delle gallerie fino alle 18, di quest'oggi è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la direttissima e Pian del Voglio verso nord e tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. Regolare al momento il traffico in Fipilì dove segnaliamo personali su strada all'altezza dello svincolo di Empoli in entrata e in uscita nelle due direzioni possibili disagi. Nel traffico ferroviario la linea Firenze-Viareggio sarà interrotta per circa un'ora per inconveniente tecnico sulla linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze in riferimento all'emergenza sanitaria coronavirus il primo giorno di zona arancione si sono registrate nel capoluogo riduzioni del traffico fino al 34%. Muoversi in Toscana Infine è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e il comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!